salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video se il primo video dell'anno che è minecraft e allora buon 2023 a tutti buon anno e bentornati sulla mia serie di minecraft allora è sul mio canale quindi vi auguro tante buone cose spero abbiate passato bene il capodanno con gli amici magari con la famiglia in allegria tra bere e mangiare botti e quant'altro anch'io ho fatto altrettanto sono andato in montagna insomma ho fatto le mie cose ecco e bene siamo qui con un nuovo video con un nuovo anno su youtube certo assolutamente e mi dispiace aver fatto pochissimissimi video nell'ultimo periodo sono stato molto impegnato con un lavoro tirocini e quant'altro quindi spero adesso di riuscire so che l'ho già detto il mese scorso comunque spero di riuscire a riprendere in mano youtube e fare qualche altro video in più e riprendere soprattutto minecraft che mi è mancato e andare avanti con le vecchie serie magari con iniziare qualcosa di nuovo vediamo e niente allora che cosa posso dirvi cosa posso dirvi in questo periodo è stato un periodo intenso anche di feste di amici di uscite avanti indietro adesso si sta facendo notte quindi andiamo a dormire e non sono anche riuscito a fare nessuna costruzione per per natale quindi questo mi dispiace e si il fatidico villaggio di natale di bavo natale lo faremo sempre l'anno prossimo sempre l'anno dopo e prima o poi riuscirò a farlo comunque comunque ecco bella giornata di sole a svegna e andiamo giù ho fatto un po di cose come vedete c'è un po d'ordine aspetta ma c'è l'audio audio volume generale che vuoi che vuoi no ok c'è sono io che sono io forse va bene non importa comunque qua ho fatto un po di ordine non è vero no ho fatto ordine ho semplicemente preso tutto questo perché perché ho visto che il mese scorso ha cominciato a fare una serie una serie che aveva fatto un sacco di altri youtuber qui perché manca un pezzo ovvero la serie di entrare nel mondo degli iscritti e quindi ci ho provato con emerald non ha fatto niente a quanto pare e ci proverò con eren sebbene sicuramente la lista di attesa sia lunghissima lo immagino comunque ho voluto fare un po di ordine perché voglio mandargli il mondo e niente sperando che lo porti in un video che gli piaccia eccetera quindi sto terminando alcuni lavoretti alcune cosette qua e là alcuni progetti poi vi faccio vedere nei prossimi video ecco questo era soltanto questo vuole essere un video di buon anno un video introduttivo di buoni propositi su minecraft sul canale quindi non farò build o cose strane e che altro dire sì sto sistemando un pochino il mondo da inviagli adesso conto di inviaglielo qua adesso nei prossimi giorni ecco e vediamo così ho anche la tempistica di quanto lunga è la lista d'attesa di quanto tempo ci vorrà prima che decida di portarlo che riesca a portarlo insomma se lo porta insomma speriamo ho visto un paio di video ha fatto molto carini e anche va buono anche perché sul mio c'è parecchio da vedere da visitare da provare del resto la mia serie su youtube così come ho già detto è molto vecchia che ho cominciato la serie nella 172 no 152 172 ora non me lo ricordo sinceramente penso 172 perché c'erano i nuovi biomi ho deciso sì è veramente vecchia sono 6-9 anni non mi ricordo neanche più dovrei andare a vedere di nuovo il primo video quindi ha tanti anni tante versioni sulle spalle tante giocate una sua storia e continua ad evolvere ad andare avanti nuove costruzioni nuove cose e ne sono felice se te lo portasci a termine i progetti più grandi sarebbe una cosa figa va bene perché i progetti piccoli sono facili da gestire li finisci in pochissimo tempo i progetti giganteschi a un certo punto per quanto ti piaccia sia divertente eccetera diventa un po' noioso e quindi dopo li abbandoni e lasci là li riprendi e così via comunque ho fatto una cosa che era tanto che volevo fare che non avevo fatto ovvero cambiare la mappa aggiornare la mappa adesso ve la faccio vedere un attimo mi piazzo qui l'avete già intravista prima e ho aggiornato la mappa boom sì questa è diventata la mappa c'è già una cosa che mi dà fastidio ovvero in basso a destra che si congiunge lì al muretto ho fatto un piccolo errore di calcolo e tra l'altro io qui avrei ancora spazio per spostarla essere onesti eh di uno solo che adesso ci sto pensando perché rispostare tutta questa roba è un po' una rottura questo è il pallino e non mi importa il sistema dopo e è un po' una grande rottura vediamo vediamo se lo faccio comunque questa è la mappa adesso dov'è che avevo categorizzato lo zoom eccolo qui con c buono questa è la mappa quanto zoom fa? un parecchio tra l'altro vediamo bello non l'ho mai usato lo zoom che hanno inserito in minecraft forse sarebbe il caso di cominciare ad usarlo allora non cadere a caso questa è la mappa allora possiamo vederla un po' con lo zoom così viene meglio qui abbiamo la zona della base dove abbiamo cominciato ok andando di qua invece c'è un tempio ci sono due o tre costruzioni proprio sperdute nascoste nel nella boscaglia lì delle foreste mi pare sia un tempio dei panda e un tempio delle scimmie forse qualcosa del genere comunque il distretto Futurama che tra l'altro non è ancora stato finito di mappare dovrei rimapparlo effettivamente perché quelle sono le mappe vecchie non le ho aggiornate ho semplicemente spostato la roba mentre ho aggiornato invece quella dove ho fatto la costruzione per Halloween poi aggiornarò anche quella e abbiamo la nuova zona anche che stavo costruendo qua sotto con la casa del pescatore il premob del mob vote che stava cominciando a prendere forma ma lo stesso qui la zona dove abbiamo fatto la costruzione della statua del Warden con il monte Azusa e... sì, citazione mentre qui in alto abbiamo il... beh, intanto il palazzo di Bazar il... sì, buonanotte l'obelisco di Bazar che sta sotto al palazzo del Supremo che vedete quella specie di macchia bianca gigantesca che si sta venendo a creare e sotto ancora c'è anche il villaggio quello degli indiani è sempre... è praticamente una piccola zona piccola tra virgolette zona a tema Dragon Ball non ricordo se il villaggio degli indiani avesse un nome dovrei andare a vedere effettivamente sarebbe carino a metterglielo torre della strega la farm gigantesca di canne da zucchero poi abbiamo la torre di Dewfish Meats e la casa di Limitarner nella zona lì che adesso ho cominciato a mappare la mapperò meglio tra l'altro andrò avanti a fare le mappe e... con calma questo è in divenire direi che di mappe ne abbiamo messe già abbastanza come potete vedere comunque qui in alto pensavo di fare un porto adesso dovrò progettare lo progetterò con calma insomma voglio fare una cosa un po' carina e continuare a fare costruzioni torri case e quant'altro da anime cartoni animati insomma quelle robe anio un bel po' messe da parte tra l'altro mi piacerebbe colpi davanti sul fondo del mare fare Bikini Bottom la città di Spongebob vabbè progetto futuro che rimarrà futuro per ora mentre tutto a destra di qua abbiamo la grande catacomba di Nazarick signori e signori che piano piano prende forma è un progetto mega galassico cioè questo è il progetto più grande in assoluto che sto portando avanti un pochino alla volta tra l'altro è praticamente tutto sotterraneo a parte il il tempio superiore che lo vedete lì la strada le mura che stanno cominciando a prendere forma ma è comunque è un lavoro lunghissimo lunghissimo e lo porto avanti un pochino alla volta lo vedremo finito? sì prima o poi sì sicuramente perché ci tengo molto a questo progetto visto che viene fuori dal mio anime preferito che hanno doppiato in italiano quindi ragazzi vi consiglio tantissimo di recuperare Overlord in italiano è uscito il 27 dicembre la prima stagione poi usciranno anche le altre tre sempre doppiate in italiano abbiamo il grande Maurizio Merluzzo che fa la voce di Heinz O'Gone sul doppiaggio ci sono alcune cose che potrei dire effettivamente che mi hanno leggermente infastidito e che mi è dispiaciuto ad esempio che Merluzzo non sia riuscito a dare un forte stacco da quando è Heinz che dà ordini a quando parla nella sua mente questo è un gran peccato poteva abbassare molto di più il tono la voce o potevano farlo in post produzione quando era il signore supremo a dare ordini comunque lasciamo perdere questi commenti la costruzione sotto va avanti così come lo scavo e le mura piano piano insomma come vedete le mura sono veramente enormi le vedete qui in basso a destra è fatto da quante mappe aspetta 3 3 si possiamo contare 5 per 5 mappe di grandezza poi ci sono le mura c'è la zona lì delle montagne anche da capire un attimo come farci passare le mura eccetera eccetera e poi vediamo con calma ecco e niente questa è tutta la mappa non l'ho messa anche dal lato di qua perché adesso cominciava a essere veramente cioè sono tante mappe troppe mappe e se ne metto anche sul lato di là come vuoi dire c'è già la ghicchia se metto ancora mappe di là lagga ancora di più quindi evitiamo di avere problemi poi magari in un'altra zona lontano da tutto e da tutti dove non ci sono troppe entità potrei fare una mappa ancora più grande copiando prima questa e poi ampliando quello di più del mondo vediamo insomma poi dopo trova il tempo che trova va bene ragazzi per questo video per questo episodio è tutto so che non abbiamo fatto nulla e vedrete tanti nuovi video tanti nuovi episodi in quest'anno e tutta mia intenzione di portare avanti questo progetto di youtube intendo e nonostante tutti gli impegni ricordo che lo faccio per passione quindi abbiate pazienza e pietà di me se non riesco a stare dietro ogni giorno con un video e da Magaraubbi è tutto vi auguro ancora un buon 2023 e noi ci vediamo in un prossimo video in un prossimo episodio ciao Ciao!